Come migliorare le prestazioni su Counter Strike 2? Ovviamente è possibile aumentare di parecchio gli FPS, anche se hai una scheda grafica di una fascia bassa, possiamo sempre aumentare gli FPS su Counter Strike, ridurre almeno l'illuminazione globale che ci permette di laggare nel gioco, quindi la riduciamo aumentando gli FPS. Quindi in questo caso non solo andremo a ridurre questa illuminazione globale, ma andremo anche a fare molte cose, quindi andiamo prima sul programma che ti ho lasciato in descrizione che si chiama Nvidia App, l'applicazione la scarichi e la installi, è un'applicazione beta, vai direttamente su grafica, qui c'è Counter Strike 2, per far uscire Counter Strike qua dentro devi avviare Counter Strike, farti una partita e poi chiudere il gioco, E sicuramente poi se riavvii l'applicazione Nvidia App ti uscirà qua dentro, quindi tutto in descrizione l'applicazione, scarichi la beta e la installi, semplice. Il gioco non è ottimizzato, o lo andiamo a godercelo con una bella qualità, oppure prestazioni massime. Ed eccole qua, occlusione ambientale che non ci serve, è disabilitata, ombre dinamiche, la togliamo, l'FSR è disabilitato, ombre basse, Nvidia Reflex, questo dovrebbe essere On più Boost, quindi andremo a modificarlo nel gioco dopo, Isoluzione Full HD, dettaglio particelle basso, filtro texture bilineare, sincronizzazione verticale, non blocca gli FPS, sono illimitati. Ora, una volta fatto sempre in descrizione, ti ho lasciato il link che ti porterà sulla pagina per scaricare l'applicazione e il pannello di controllo di Nvidia. Ovviamente per chi usa una scheda grafica AMD, c'è il programma AMD Adrenaline Edition. AMD Software Adrenaline Edition è come il programma Nvidia App dove tu puoi configurare i tuoi giochi, ma io non posso installarlo perché non lo supporto. Ora, vado direttamente su Gliestisci le impostazioni 3D, Impostazioni Programma. Aggiungiamo così un programma, quindi andiamo su Sfoglia, vai su questo PC, vai nel tuo disco dove hai scaricato e installato il tuo Counter Strike, andiamo nella libreria di Steam. Steam Libreria, Steam Maps, Common, Counter Strike, Game, Bin, Win64, CS2, Applicazione e fai Apri. Ora, come funziona qua? Ridimensionamento, immagine che sarebbe la nitidezza, mettiamo disattivato. Ovviamente puoi anche farti consigliare da Nvidia oppure seguire questi passaggi qua. Questo lo puoi saltare, Buffering Triple, metti Impostazioni Pretefinite Driver, Filtro Anisotropico, metti 2x, Filtro Struttura, Estrincimento Bordi, Filtro Struttura, Disattivato, Qualità, metti Prestazioni Elevate, Frequenza Fotogrammi Massima, metti, Ovviamente lo puoi anche emettere fino a 1000 FPS, Modalità Abbasso Latenza, metti Ultra, Ottimizzazione con Triad, metti Automatico, Sincronizzazione Verticale, metti Disattivato, Tecnologia Monitor, mettiamo la compatibilità con il G-Sync o il FreeSync se tieni uno di questi due sul monitor e questo è la più elevata disponibile. e il secondo è andato e applichiamo. E ora non ci resta che avviarlo direttamente e fare delle modifiche sulle sue impostazioni per vedere come ci troviamo. Ed eccoci qua su Counter Strike 2. Ovviamente vado un attimo ad avviare l'applicazione AfterBanner Per vedere quanti FPS faccio su Counter Strike. Questo lo posso chiudere, questo lo chiudo. Ed eccolo qua. Per ora sono sopra i 213-214 FPS. Quindi l'immagine è anche perfetta sui personaggi qua. Scendo fino a giù fino a trovare qualità di scelta è tutto a basso. L'HDR metto prestazioni. FSR metto direttamente prestazioni. Ora gli FPS sono anche aumentati, però non è che si vede un granché ora ai personaggi. Quindi ti consiglio di tenere le FSR su disabilitato. Qualità massima. E il resto tutto basso, bilineare. FPS massimo in gioco. E basta. Off. E abbiamo finito. E questo è uno di FPS che riesco a fare su Counter Strike 2. Per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao. Ciao. Grazie.